Francesco Pace, presidente dell'Associazione Culturale 081 Arte e Cultura e dell'omonima compagnia e Veronica Di Vita, vice direttrice di Quarto Canale Flegreo. Insieme per raccontarci Proscenio, seconda edizione, e l'evento finale che si terrà a breve. Sì, quest'anno ci riteniamo ancora più soddisfatti rispetto all'anno precedente per come è andata questa seconda edizione di Proscenio che si conferma una grande produzione di Quarto Canale Flegreo. Tante le compagnie, più dello scorso anno, tanti gli spettatori che hanno potuto seguirci anche grazie alle dirette Facebook, abbiamo avuto compagnie addirittura provenienti da fuori regione e siamo davvero felici, quindi ci approssimiamo alla finale, però pensando già alla prossima edizione. A proposito della finale, quando ci sarà? Che cosa state preparando? A breve, insomma, state lavorando? Infatti c'è colto con le mani in pasta, stiamo preparando per la finale di sabato. Come diceva Veronica, volevo cogliere l'occasione, questa edizione è andata bene, anche la finale sarà altrettanto bella. Innanzitutto io voglio dire che è vero che ci sarà la consegna dei premi principali, tra cui il premio finale, il premio giovane di Quarto, che a livello come prestigio noi possiamo dire che è la stessa cosa del primo finale, però la cosa che ci teniamo a sottolineare è che quella di sabato sarà una festa del teatro, una festa per il teatro soprattutto. Ci rincontreremo insieme in tutte le compagnie, con tanti ospiti del settore, per festeggiare il teatro. Noi come 081 ci poniamo sempre questo obiettivo, festeggiare e diffondere il teatro, al di là dei premi della vittoria che fa sempre piacere, ma diffondere il verbo quasi mi è da dire. Però ricordiamo che il premio finale fa molto gola alle compagnie che partecipano. Assolutamente sì, una serata gratuita al Teatro Il Piccolo di Furigrotta per sabato 30 settembre. Quale compagnia vincerà? Non si sa dovete aspettare sabato sera alle 18.30, diretta da Quarto Canale del Fecreo. Dove però si svolgerà l'evento? L'evento si svolgerà anche quest'anno al Teatro del Centro Qualcosa in Più, della Chiesa Gesù Divi Maestro di Quarto, e la diretta sarà realizzata in collaborazione con Dialogos Comunicazione. Quindi seguiteci in tanti, sarà davvero un bellissimo spettacolo. Grazie allora, in bocca al lupo, buon lavoro per sabato 20 maggio alle 18.30. E vive il teatro!